Ciao raga, allora mio marito mi ha dato sta cinta per vedere pure la circonferenza di centimetri e cose Allora, dimmi se la metto bene, così, dietro deve essere stretta così, ok, vediamo dove mi entra No, non mi arriva i primi buchi, no, a meno che stringo fortissimo ma non vale, è così, amore Sto scoppiando, vabbè, che ti dici, così, non arriva neanche i primi buchi, eh, ecco Adesso provandola qui, così, cioè qui raga non arriva neanche qua, mo la proviamo insieme una volta al mese Sopra, qui, così, almeno sopra dobbiamo arrivare senza stringerla, senza stringerla raga, almeno ai primi Ma così si fa, devo stringere così di più, però così non va bene, così, dai raga, eh, tra un mese Ciao